no che marcia sei quarta sei sei in quarta devi farlo in tagliala, tagliala in mezzo che ne hai due no o seconda o terza ma no c'è la rete dietro non l'ho fatto mica io vado nella retro sulla pianta le cose che salto e poi mi devo fermare lì per me non fanno bene lui deve saltare e andare pesca c'è la pianta ma che vado di fermi sulla pianta e scolta l'ho già fatto una volta mi sono letto due costole sì ma le cose se le fai le fai a destra non devi fare così fa la cazzo devi guardare dove devi andare non è che le fai a sciambola e dove no lui va e basta se le fai a sciambola ti fai male tutto non quello qualsiasi cosa